Dovevo parlare, ero venuta qui a parlare in autori in presito, dei libri fondamentali per me. Invece ho fatto un'altra scelta, ho voluto parlare dei libri che sarebbe importante che gli uomini leggessero, ma leggessero davvero, per capire il pensiero delle donne. Gli uomini non lo fanno, invece sarebbe utile. Ne segnalo soltanto tre. Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, il secondo sesso di Simone de Beauvoir e Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi.